Drammatico incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Iglesias, a perdere la vita un giovane turista 29enne di Alba che insieme ad una comitiva di altri motociclisti era diretto a Cagliari. L'incidente si è verificato sullo svincolo della strada statale 130 che emette dalla città mineraria verso la Quattro Corsie. Il giovane a bordo di una Yamaha Tracker si era immesso con i suoi compagni di viaggio sullo svincolo che in questi giorni è oggetto di lavori di asfalto del nuovo manto stradale e quindi ancora privo di segnaletica orizzontale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che Centauro abbia percorso il tratto di strada nel centro della carreggiata. Improvvisamente è arrivata dalla corsia opposta una Fiat Cubo. L'autista dell'auto ha cercato di evitare il motociclista ma l'urto è stato inevitabile. Il giovane ha proseguito la corsa contro il lato sinistro di un autobus dell'Arst diretto ad Umusnovas che lo precedeva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Iglesias che ora dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. I sanitari del 118 arrivati sul posto purtroppo non hanno potuto che confermare il decesso del giovane motociclista piemontese.